Siamo dunque alla pagina sportiva, il Corriere dell'Umbria fa la copertina doppia, Grifo e Fere, primo giorno di scuola, il Perugia si ritrova in sede aspettando qualche colpo vero, la Ternana invece a Norcia. Nel dettaglio Perugia raduno soft per il nuovo Grifo, nessun tifoso nel primo giorno di lavoro di Giunti, Vecchia Guardia presenta più i primi rinforzi, Coe e Casale, il nordcoreano accompagnato da Dominici, il giovane difensore del Verona ha pranzato al Bar del Museo, da giovedì allenamenti a porte aperte allo stadio Curi. A Terni, meglio ancora, a Norcia, a Fere, a Norcia presto, ecco tre colpi, Pokesci scalda subito la piazza Rosso Verde, Paolucci dice qui trovo mio zio Silvio, l'ex centrocampista del Cittadella commenta conosco il calore dei Ternani, dunque al via il ritiro in Valnerina. Gubbio Notari passa all'attacco, Marchi è la nostra prima scelta, il presidente dice è un ottimo attaccante, il curriculum parla chiaro, che squadra sarà, dice Notari, è una squadra che gioca un bel calcio, per ora il bilancio del mercato è soddisfacente, vogliamo divertire. In Serie D il Trestina si prende Stucchi, non in stand by, Cerbella dice vicini a Omorria, scusate speriamo di averlo letto bene, poi completeremo la difesa, attenti a tutte le opportunità. Siamo a Città di Castello per parlare di seconda categoria, il presidente della FC Castello dice riferimento per tutta la ballata, non lesineremo le risorse necessarie per fare di questa squadra appunto un punto di riferimento in Alto Tevere. Serie D Sansepolcro, c'è Adamo in difesa dopo l'attio Dio di Cangi e in promozione invece il Foligno Calcio tra Canalini, Gimilli e Boccali, in porta si torna a parlare con Mazzoni. Tennis internazionali, Perugia ci siamo, il tabellone completo, la quarta wild card a Granollers, spicca il match con Tsitsipas ed Ecobar, subito in campo il numero uno del bonus. Ma di tennis si parla anche a Gubbio perché da sabato prende il via il torneo Future, grandi firme e un super monte premi per il volley femminile. Siamo a Perugia, pallavolo Perugia, piazza il primo colpo, Arianna Cicogna fa parte del team. Andiamo al messaggero, Grifo Bandinelli si può, il Sassuolo valuterà il centrocampista, poi deciderà se lasciarla andare via in prestito. Un nome per rinforzare l'attacco, Yannick Frick è il figlio di Super Mario e ora gioca in Svizzera. Intanto per il raduno, Del Prete è arrivato al mattino, c'è anche il Bebi Casale, nel pomeriggio riunione tecnica di Giunti e poi una sgambata. Foligno, lo sponsor è fatto in casa, la Metelle infatti sosterrà il Foligno Calcio e poi ci spostiamo a Terni con il messaggero. Rivoluzione Ternana, sono pochi i superstiti. A Norcia parte la stagione di una squadra che ha cambiato nome e soprattutto pelle, sono Maccariello, Defendi e Valiana ad accogliere i nuovi arrivati in Umbria. Chiudiamo con la nazione, il suo inserto sportivo, Grifo primo giorno per il nordcoreano Coe, scatta il raduno in sede con poche novità, tanti volti noti. Intanto Gnaorè è il nodo da sciogliere, il Palermo offre un milione. Per le trattative, Colombatto domani è attesa la risposta, Frick è sotto la lente dell'interesse. Ternana caccia e corvia nel Mirino, Cutrone può arrivare in prestito, i rossoverdi di Pochesi hanno iniziato il ritiro a Norcia. Il mercato dei dilettanti, Petrignano cealunni, Stucchi va a Trestina e poi il tennis Perugia del Bonis subito in campo nel derby argentino contro Andreozzi. Ancora per il basket C-Gold, il Perugia se la vedrà con le Toscane e per il volley di Serie B, Città di Castello e Grifo sono a rischio iscrizione. Resta una settimana ma le speranze sono ridotte al lumicino. Bene, questa era l'ultima notizia anche per lo sport, ovviamente vi diamo l'appuntamento alle 19 con i TG. Per voi una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.